Buongiorno buongiorno a tutti e bentornati qua su Gaming Galaxy, due settimane di pausa e si ritorna con l'Alatreon Pam, sparata subito così e ci sono un po' di cose da dire sull'Alatreon ma sono qua per darvi una guida per principianti diciamo come me perché in realtà è da quando l'hanno messo fuori che lo sto facendo, l'ho ucciso qualche volta, vi porterò qualche guida per poter sopravvivere all'Alatreon Prima di tutto però ricordatevi di iscrivervi al canale e se invece lo avete già fatto vi ringrazio immensamente ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video iniziamo con intro e poi parliamo dell'Alatreon Come potete vedere non sono nella mia consueta balestrina, questo perché sfortunatamente le balestrine sono subottimali a quello che è l'Alatreon e quindi non potendo noi tornare alla base per poter ricaricare i proiettili abbiamo delle difficoltà, difficoltà che possono essere in realtà sopperite ma potrei fare un video a parte parliamo dell'Alatreon, l'Alatreon come si affronta e il perché si affronta ho fatto un video morendo svariate volte vedendo un po' per portarvi degli esempi quindi di come si muore, vi porterò l'esempio anche del judgment quindi dell'esplosione per farvi vedere come si sopravvive invece a come si muore come degli idioti in realtà nel judgment che andrete a vedere sono morto perché ero stordito e quindi semplicemente non sono potuto andare a curarmi ma i miei compagni si sono sopravvissuti senza alcun problema partiamo dall'inizio, che cos'è l'Alatreon? L'Alatreon è un bellissimo mostro drago anziano che si trova qua negli incarichi speciali nella nostra tavernina quindi nuova missione e noi peschiamo l'incarico speciale l'Alatreon, se lo avete ucciso ve lo darà completato lo troverete negli eventi a pagina 1 con stella crepuscolare qua potrete farlo quante volte vorrete, è anche leggermente più facile quindi una volta che l'avrete ucciso la prima volta qui sarà leggermente più facile detto questo parliamo delle cose da portarsi dietro quindi organizzazione degli oggetti qua a schermo vi metto quello che serve quindi la lista di quello che vi dovreste portare dietro per combattere l'Alatreon andiamo comunque a vederli quindi organizzazione oggetti si va in organizzazione oggetti io ovviamente ho già gli oggetti vari ed eventuali pronti mi mancano in realtà le linfe vitali che qua sfortunatamente non ho perché le ho finite ok? niente di che ma non sono strettamente necessari quello che è necessario è quello che vedete qua quindi sicuramente le megapozioni perché può essere utile sicuramente la pillola della salute perché non è detto che mangiando poi parleremo anche del cibo avrete la salute massima e la stamina massima la pillola antica per mangiarvela all'inizio per maxare tutte le vostre stat la carne di astiera fondamentale per sopravvivere al judgment il mega siero demoniaco ovvi motivi per potenziarsi polvere di vita per curarsi velocemente e curare i propri amici linfa vitale stessa identica cosa della polvere di vita polvere demoniaca si usa all'inizio poi non la si caga più guscio duro stessa identica cosa ci si aumenta un pochino la difesa come ultime cose chiaramente il baccello lampo che questo mostra un po' particolare sull'essere accecato nel senso che è molto raro è difficile accecarlo e quindi va utilizzato ma può anche essere ignorato e non portato dietro poi ovviamente i vari talismani sperone artiglio della difesa questi sono fondamentali sempre da avere negli oggetti quindi una volta che noi abbiamo questi oggetti andiamo a mangiare e spariamo un attimo un po' una spiegazione anche su quello perché anche quello c'è qualcosa di particolare da dire eccoci qua siamo già alla mensa e alla mensa ovviamente noi avremo la possibilità di mangiare quello che in realtà ci capita questa volta però noi dovremmo andare a mangiare per due determinate cose o sangue freddo o salvaguardia se avete salvaguardia è molto meglio se avete ovviamente il bonus per una morte gratis è ancora meglio se no mangiate per salvaguardia questo perché questo mostro è stronzo come la merda e molte volte anzi per la maggior parte dei suoi attacchi fa danni ambientali è molto raro che faccia danni diretti e quindi il sangue freddo può salvarvi la vita con un danno ambientale che normalmente esplodono perché ovviamente dopo i danni ambientali devono esplodere tutto vi può salvare lasciandovi a un punto ferita quindi salvaguardia, assicurazione o sangue freddo queste sono le tre cose fondamentali da mangiare se siete in due e avere due assicurazioni o un salvaguardia e un'assicurazione vi da due morti in più quindi se siete in due portatevi due vigor vespe tramite il palico e due assicurazioni o un sangue freddo o un salvaguardia e un'assicurazione per avere alla fine sette morti quindi potete morire in totale sette volte che schifo non fa quindi in due normalmente si riesce a fare tranquillamente se siete in quattro due di voi mangiano per salvaguardia due di voi mangiano per assicurazione chiaramente se non avete né salvaguardia e né assicurazione mangiate per sangue freddo questo è quello che dovrete fare ora parliamo invece delle armi quelle che vanno bene e quelle che invece non servono assolutamente a un cazzo come potete vedere siamo davanti alla cassa oggetta per parlare delle armi le armi quali servono e quali no ebbene tutte le armi elementali noi ovviamente possiamo andare a vedere anche il nostro bellissimo la nostra bellissima filosofisiologia ce la posso fare stamattina come potete vedere l'alatreon ha diversi step come vedete cambiano in base a quello che è l'elemento attivo sul mostro in quel preciso momento quindi se in quel preciso momento il drago è attivo quindi ha l'elemento drago addosso noi potremmo utilizzare qualsiasi tipo di elemento non gli faremo molto danno a parte il drago ma comunque sia sarà un bene avere qualsiasi tipo di elemento per quanto riguarda il fuoco ovviamente il fuoco non gli farà niente tutto il resto gli farà un botto di danno chiaramente ghiaccio stessa cosa il ghiaccio non gli fa nulla e chiaramente andremo a utilizzare il fuoco e il tuono ma come si fa se non si può cambiare arma non si può cambiare build ebbene se siete in due quello che conviene è portarsi di solito dietro ghiaccio e acqua o ghiaccio e fuoco questo perché normalmente almeno uno dei due gli farà del danno che serve per evitarsi il danno totale del judgment che andrò a spiegare più tardi quindi se siete in due scegliete due elementi che siano diversi e entrate con due elementi diversi le armi consigliate sono le doppie lame che sono le armi elementali per eccellenza e che ovviamente fanno dei danni devastanti a questo mostro le inset glaive sono ottime per fare veramente dei danni e in più avrete un cavalcamento abbastanza semplice del mostro e spade e scudo che anche quelle sono armi elementali quindi queste tre armi sono sicuramente ottimi la CB può essere utilizzata ma è un mostro molto 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 rompicoglioni questo perché anche se siete sotto di lui vi colpirà con i danni ambientali perché questo mostro utilizza tutte le mosse di tutti i draghi anziani presenti quindi Kirin vi spara fulmini fuoco col teostra esplode con lunastra tira robe a caso di drago usa attacchi del velcana e in più ha anche attacchi suoi quindi il problema fondamentale è che tutte le armi lente possono essere subottimali per il semplice fatto che farete fatica prima di tutto a colpirlo e seconda cosa questo mostro è costantemente in movimento ci sono degli spot in cui sta fermo e si fa picchiare malamente ma bisogna avere pazienza per utilizzarli quindi se siete gente con poca pazienza armi migliori sono sicuramente le doppie lame sicuramente l'inserti live sicuramente la spada e scudo e poi ci sono le armi non dico subottimali ma non al 100% perfette che possono essere le cb o le longsword queste sono diciamo le armi principali che vengono utilizzate per combattere l'allatreon questo non significa che non potete utilizzare qualsiasi altra arma ma considerate che praticamente tutti gli attacchi dell'allatreon se non il 90% non possono essere parati nemmeno con guardia perfetta questo è perché voi parate il danno diretto ma tanto poi arriva il danno ambientale e quello è imparabile quindi i danni ve li prendete comunque se utilizzate lanci e scudo hbg con lo scudo e il resto servono ma diciamo al 20% di quello che realmente è il loro utilizzo quindi parlato delle armi parlato del cibo parlato dell'equipaggiamento siamo pronti a partire per l'allatreon andiamo a vedere lo stronzetto ok eccoci qua siete ovviamente sul mio desktop siete ovviamente su una registrazione questo perché non avevo minimamente intenzione di farlo dal vivo il video volevo spiegarvi come vedete se voi entrate in una missione vi darà la possibilità di potenziarvi e di conseguenza potrete mangiare e potenziarvi con polveri demoniaci e guscio duro anche chi sta entrando con voi come vedete sono entrati i due ragazzi si parte ci si trova subito l'allatreon che ci romperà sicuramente subito i coglioni questo è una verità dei fatti questo è l'allatreon ovviamente io con un inset glaive dovrò prima prendere i bonus come vedete l'allatreon ha già tirato un colpo per terra e chiaramente ha già anche fatto esplodere tutto altra cosa fondamentale come vedete non si riesce a far sbattere nel muro questo perché ha soltanto degli spot dove potersi sbattere che sono gli spot che vedete sul fondo sono quelle sottospecie di rocce appuntite solo lì l'allatreon potrà essere sbattuto nel muro e cadrà per terra per il resto del tempo non ci riuscirete ve lo dico già ora come funziona l'allatreon per l'allatreon è semplicissimo il problema dell'allatreon non è tanto l'allatreon in sen che comunque basta conoscere i suoi moveset per evitare di essere uccisi come dei dementi come faccio io in questo preciso momento ma se voi conoscerete i moveset è plausibile che l'allatreon non sarà così difficile come mostro come potete pensare quello che è difficile è sopravvivere al judgment ma come si fa a sopravvivere al judgment? il judgment che è l'esplosione che fa normalmente durante il suo cambio di stato quindi nei vari cambi di stato farà un'esplosione totale simile simile behemoth ok semplicemente o simile safigiva in cui noi moriremo punto non abbiamo possibilità di ripararci come funziona? funziona che noi in base all'elemento che abbiamo sull'arma andremo a combattere quindi andremo a andremo a mettergli del danno elementale addosso e quando noi gli avremo messo abbastanza danno elementale addosso e lui esploderà ci farà meno danno di quello che in realtà farebbe se noi andremo a giocare con armi che fanno status o row quindi dovrete entrare con un'arma elementare proprio per proccargli del danno elementale addosso come vedete l'alatreon mi ha ucciso poco fa grazie a un danno da elemento ok semplicemente da esplosione terrena che non è parabile questi sono i danni principali che fa l'alatreon come vedete esplode abbastanza spesso fa danni territoriali quindi fa danni che non possono essere parati abbastanza spesso cambia elemento abbastanza spesso e quello che potete vedere non è tanto la difficoltà nel farlo perché come vedete i miei compagni ci sono addosso io stavo registrando il video quindi ero concentrato nel farvi vedere le cose ma sarà giustamente solo ed esclusivamente riparare i danni da terra se per caso vi colpisce e quindi vi vi crea un danno quindi dovuto dal terreno ok voi potrete una volta che siete colpiti rimanere a terra senza toccare i controller o la tastiera questo perché se il nostro personaggio rimane a terra tutti i danni che gli vengono inferti in realtà non ci vengono inferti quindi è un buon modo per evitarsi dei danni a cazzo di cane ora una volta che voi gli avrete inferto tutti i danni e lui starà per esplodere ok succederà questo adesso andiamo in fondo e ve lo faccio vedere eccoci qua io sono stordito in questo preciso momento come vedete io mi rialzo lui esplode questo è tutto il danno che viene a crearsi che voi vi mettiate qui dietro non serve assolutamente niente quello che c'è da fare è quello che fanno i miei compagni quindi riunirsi tutti in un punto mettere giù due bengala guaritori e una volta che il danno che l'alatreon inizierà a farvi dopo tot secondi dalla sua furia che in questo momento imperversa ok vi mando avanti il video vedete io mi riprendo dallo stordimento cerco di arrivare i miei compagni vedete che hanno messo giù il come si chiama i bengala guaritori in questo momento io sono in mezzo ai bengala guaritori ma la mia vita viene tolta quando la vita viene inizia a scendere semplicemente noi dovremmo mangiare la carne a stera una volta mangiata la carne a stera noi saremo salvi non vi succederà nulla quindi fondamentale che nel gruppo che siate in due che siate in quattro ci sia una coordinazione che quando lui sta per fare il judgment quindi questa cosa qua voi vi riunite tutti in un punto mettete giù due bengala guaritori e una volta che l'alatreon avrà iniziato a farvi del danno quindi esploderà realmente voi mangerete della semplice carne a stera e rimarrete in vita questo funziona solo ed esclusivamente se voi avrete fatto abbastanza danni elementali in teoria una volta che gli avrete fatto abbastanza danni elementali il judgment non sarà di una forza estrema e voi riuscirete a sopravvivere senza alcun problema come funziona? l'alatreon ha tre step di vita il primo a 50.000 quando lo farete in solo che secondo me è la cosa migliore farlo in solo è la cosa più semplice il secondo con 72.000 di vita 72.79 in base ovviamente alle dimensioni dell'alatreon e il terzo step che è quando siete in due il terzo step invece quando siete in quattro o tre o in quattro avrà 120.000 di vita quindi sarà molto più dura ucciderlo chiaro che se tutti fanno il loro dovere e tutti fanno 20-30.000 danni o 40.000 danni ciascuno in realtà con i 120.000 di vita si tolgono abbastanza agilmente di solito le esplosioni dell'alatreon sono due o tre quindi dovrete resistere a quelle due o tre come ho detto prima quindi qual è la questione come ho detto prima ricordatevi di fare danno elementale ricordatevi di portare l'equipaggiamento che vi ho fatto vedere ricordatevi di riunirvi quando lui esplode e per il resto l'alatreon non è un mostro così complicato da fare chiaramente se siete distanti come in questo caso che se io ero con dei random giusto per registrare ero distante e stordito l'alatreon mi ha ucciso perché ovviamente non ho potuto fare altrimenti perché non ho potuto arrivare dai miei compagni che avevano messo giù i bengala guaritori sfortunatamente quello è successo non ci ho potuto fare veramente nulla se no sarei sopravvissuto senza problemi anche io bene spero di esservi stato utile nella spiegazione di che cos'è l'alatreon e come si combatte l'alatreon vi auguro una buona partita fatemi sapere qui sotto che problemi avete e magari vi porterò un Q&A sull'alatreon per vedere se ci sono abbastanza domande o magari la community fa domande particolari su come combatterlo e magari qualche build noi ci rivediamo in caccia al prossimo video GG a tutti quanti che cos'è l'alatreon che cos'è l'alatreon